Aruba Drive ti consente di personalizzare l'aspetto del tuo pannello modificando lo sfondo o il tema. Per iniziare, clicca sull'icona del tuo profilo qui in alto nel pannello e seleziona la voce Impostazioni. Dal menu di sinistra, clicca su Aspetto e accessibilità. Dalla schermata che si apre, puoi selezionare il tema desiderato e modificare l'immagine dello sfondo. Una volta ultimate, le modifiche effettuate in questa pagina si salveranno automaticamente.